Fortinet è un'azienda che è sul mercato da oltre dieci anni si occupa di network security e direi di riassumere i suoi punti di forza in tre punti fondamentalmente. Il primo è una grande forza di innovazione, noi abbiamo avuto un enorme successo in questi dieci anni dovuto a un approccio innovativo al mercato della sicurezza. Fin dall'inizio l'approccio del UTM, Unified Threat Management, è stato inventato tra virgolette da Fortinet. Il secondo punto direi è l'ampia gamma di prodotti che possiamo offrire ai nostri clienti, se tenete presente che abbiamo più di 50 prodotti solo per la sicurezza perimetrale, diverse fasce di utenza. Oltre a questi prodotti per la sicurezza perimetrale ci occupiamo di soluzioni end to end, di conseguenza spaziamo dalla sicurezza su wireless, la sicurezza per il mitigation dei DDoS, la sicurezza per quanto riguarda l'autenticazione, quindi attraverso dei token, la sicurezza applicativa, si parla molto di sicurezza sulla parte web, abbiamo delle soluzioni specifici per quello che è la sicurezza web, quindi abbiamo un ampissimo portafoglio di soluzioni sulla sicurezza e direi la terza forza importante che abbiamo qui in Italia sono i nostri partner, noi abbiamo un forte canale, abbiamo delle aziende che sono assolutamente focalizzate sui nostri prodotti e giovani dei vantaggi del nostro partner program e insieme alla nostra squadra locale che conta più di 18 persone diamo sopporto in tutto e in toto su quelle che sono le attività del canale, quindi questo direi è un riassunto sulla nostra azienda. SIDIN è il nostro partner storico, il primo distributore a tutt'ora è il nostro master distributore in Italia, SIDIN ha una forza che per quanto mi riguarda tocca diversi punti, sicuramente la capillarità dell'azienda, quindi è presente bene o male in tutto il territorio italiano con degli uffici dislocati nelle città più importanti, è sicuramente un'azienda finanziariamente parlando in questi tempi molto solida, quindi questo per noi è fondamentale come vendor. Il concetto del VAD è qualcosa che io trovo all'interno di questa società, quindi le competenze, le nostre soluzioni sono ben presenti, dopo ben o male dieci anni anche con loro di storia, le persone che ci lavorano ci danno ovviamente delle grandi soddisfazioni in termini di competenza, di sopporto per i partner e così via, e credo l'ultimo e più importante punto è la focalizzazione. SIDIN rispetto ad altre distribuzioni è focalizzata tantissimo su Fortinet, quindi questo ci permette veramente di avere un grandissimo vantaggio in termini di relazioni tra le aziende, quindi la focalizzazione per noi è fondamentale. Grazie a tutti.